il momento psicologico non è dei migliori dopo l'ultima brutta sconfitta, devono assolutamente rialzarsi. Ecco la formazione iniziale del Borussia Mönchengladbach, questo è l'undici della squadra ospite. 4-5-1 votata l'attacco per loro con i due centrocampisti esterni che possono dare una mano agli attaccanti. L'intenzione dell'allenatore credo sia proprio questa che era almeno in fase d'attacco per far salire i due esterni passando ad un 4-3-3 dal 4-5-1. Strobel, palla larga. Ottima occasione! Palla messa dentro! Pallone interessante! Può far partire il cross! La mette in mezzo! Bravo qui il difensore che spazza via! Lee Shul-Yong Pallone controllato senza difficoltà dai difensori Strobel Continuano a girare palla cercando il momento giusto Cerca il cross profondo Nessun problema per la difesa su questo traversone Ha spazio per il cross Hanno l'occasione per passare in vantaggio Grande risposta! Palla che finisce in corner Chance importante! Devono cercare di sfruttarla L'impressione è che non ne avranno molte oggi Buono l'intervento del difensore che spazza via Ferma l'azione, recupera il pallone mettendosi sulla traiettoria giusta Dent Fuori gioco che c'era Come evidenziano le immagini Oltre L'ultimo difensore La sua posizione Anche se per una questione di centimetri Difficile che potesse fare male da lì Tocco verticale interessante Gran palla in mezzo Il punteggio si sblocca Tifosi impazziti Dopo i gol Comprensibile la loro gioia Hanno aperto le marcature con questo gol 1-0 Plea Offman Strobel Occhio cerca l'area di rigore A line out E dunque calcio in angolo Occhio al corner Vediamo se riesce a passare il difensore Non trattiene Occhio alla possibilità Sono ancora in vantaggio Grazie al loro portiere Che ha evitato il gol del pari Con un intervento providenziale Riconquista palla Intercettando la traiettoria del passaggio Intervento sicuro del portiere Che è allontano Buon recupero del pallone Possono ripartire Palla che esce Sarà a faro laterale Lang Cerca la sovrapposizione Mamma mia Cosa ha fatto qui La respinta di pugno Ecco il tiro C'è la sola potenza in questo tiro Mira completamente sballata Ci ha provato Dai Capita di sbagliare La colpita Però davvero male Lì su Jong All'interessante dello spazio Comoda Uscita del portiere Plea Prova a spingere Gladbach Lungo la fascia Vents C'è il laccio sulla fascia Occhio al cross La traiettoria Verso il centro Hanno messo il pallone in aria Ma senza precisione L'attaccante è pressato Attenzione Conclusione da cancellare Palla larga Cerca il sostegno Dei compagni Strobel Stendel Hanno sfiorato il pareggio Conclusione che è terminata Non lontana Dai pari della porta Avrebbe sicuramente Meritato il gol qui È mancato quel pizzico Di fortuna Necessaria In questi casi Occhio a questo lancio Alla messa dentro Attento qui Il difensore Che allontana Si preparano a difendere Su questo corner Attenzione alle marcature Corner battuto in mezzo Possono dunque ripartire Palla che esce Touche Rimessa laterale Prova a spingere Gladbach Lungo la fascia La spazza via Plea Puntuale qui Il difensore Nel recupero Quarto uomo Esibisce il tabellone Due minuti di recupero Possono trovare il gol del pari Attenzione Conclusione che si è spenta Abbondantemente sul fondo I compagni lo rimproverano Perché non ha passato il pallone Ha visto uno spiraglio Si è lasciato ingolosire Sperava sicuramente Miglior sorte C'è spazio per andare La rimette dentro Palla sulla traversa Poi ancora in campo Può far male da lì Traversa Palla ancora in gioco E finisce qui il primo tempo 1-0 Alla fine dei primi 45 di gioco Una buona prima frazione di gioco Che l'ha visto protagonista Può essere contento Per aver dato il vantaggio Alla sua squadra Vedremo se riuscirà a farne altri Nella ripresa Per chiudere i conti Per chiudere i conti Per chiudere i conti Ecco il calcio d'inizio Nel secondo tempo Danilo Pugland La legge bene Intercetta il pallone Non era difficile Punta l'area La mette in mezzo Con questo pallone Buono l'intervento Del difensore Che spazza via È in posizione da cross E il pallone se ne va via C'è stata la deviazione L'arbitro assegna La touche La rimessa con le mani Con questo è un buon pallone Centrocampo Raffaele Traori Lang Gran palla in mezzo Ha controllato male Bravo qui il difensore Occhio al pallone Filtrante Il pallone è uscito Si riparte con una rimessa Si riparte con una rimessa dal fondo Raffaele Palla girata sulla corsia Provano a aprire la scatola difensiva avversaria Assa Cerca il cross profondo La difesa la meglio E allontana il pallone Raffaele Lang Potrebbe crossare Suma dunque L'azione d'attacco Prova a spingere Gladbach Lungo la fascia Possono ripartire Dopo il recupero del pallone Può riportarla in parità C'è tutto il loro orgoglio Il loro spirito di battaglia Il gol che vale il pareggio Loro non mollano Partita bellissima Equilibrata Combattuta Penso che anche il pubblico Sulla tribuna E' quello a casa Si stia divertendo oggi Hanno segnato Tutto secondo pronostico Sono la squadra favorita Hanno fidato sicuramente di più fin qui Si stanno gestendo Stanno controllando la gara A loro piacimento Come dimostra anche Il numero di palle e gol Creante Pugland Recuperano palla Tocco impreciso Pallone recuperato Raffaele Prova a spingere Gladbach Lungo la fascia Il pressi nel difensore Ha costretto l'attaccante A portare il pallone Oltre la linea Hanno raggiunto il pari Grazie alla rete Che stiamo rivedendo Stindel Ecco Benz Può cercare il cross Buona chiusura Sul tocco profondo Intervento efficace Del difensore Che intercetta il lancio E recupera palla Hazard Raffaele Raffaele Asar Prova a spingere Gladbach Lungo la fascia Arbitro che assegna Il calcio di punizione Posizione defilata Probabile che decida Di crosserla nel mezzo Pallone spazzato via Bene dalla difesa Prova dalla distanza Può avanzare Può avanzare Interseer Attenzione Siamo in area Ottima la lettura Del difensore Che ha capito tutto Ha recuperato il pallone Prova a spingere Gladbach Lungo la fascia Provano a ripartire Attenzione Perché sarà caccia Del gol Del vantaggio E questa può essere Davvero una buona occasione Alla fuori Sarà corner Calcio da golo corto Non ha trovato L'impatto col pallone Davvero Questione di centimetri Hazard Raffaele Lichung Yong Lung Perfetto Oggi Nei passaggi Occhio al pallone Filtrante Al pallone In mezzo Intercettano bene Il pallone Poteva essere Una buona ripartenza L'hanno buttata via A spazio Davanti a sé I compagni Si fanno vedere Ottimo recupero Del pallone Quinta Raffaele Siamo entrati Negli ultimi 180 secondi Di gara Plea Ci sono metri A disposizione Kramer Ha salvato la sua squadra Qui un intervento Che vale come un gol Ci ha messo davvero Una pezza Peccato Era un buon cross Ma non c'era nessuno in area Interseer Possibilità di contrapiede Continuano ad attaccare In questi ultimi minuti di gara A caccia A caccia del gol Attenzione perché questa può essere l'azione Che vale il vantaggio E hanno trovato il gol Un gol pesantissimo a questo punto della gara Sono avanti Doccia fredda per gli avversari Siamo a disposizione Pochi minuti Per provare a rimetterla in piedi È un gol pesantissimo Ecco il tribice fischio Che mette fine al match Questa sconfitta È esattamente il contrario Di ciò che serviva Per accorciare il distacco Dalla vetta della classifica Eh no Questa battuta d'arresto Non ci voleva No no Non ci voleva